un saluto a tutti qui dal gopippo oggi vorrei parlarvi di una tematica un po diversa perché negli ultimi video vi ho parlato spesso del metaverso vi ho fatto vedere l'oculus rift andatelo a vedere e vi ho fatto vi ho parlato di cripto valute vi ho accennato qualche cosa ma oggi vorrei portarvi all'attenzione una cripto valuta particolare cosa la rende particolare la rende particolare perché ve la regalano si chiama appunto ai dollar io oggi voglio farvi vedere un'applicazione dove vi regalano queste cripto valuta questa ai dollar senza alcun bisogno di investire nessun tipo di denaro questo avviene attraverso l'air drop che cos'è l'air drop l'air drop è sostanzialmente una campagna pubblicitaria che fanno cercano di lanciare o pubblicizzare questa cripto valuta questa moneta per renderla visibile in mezzo a tantissime altre cripto valute esistenti al mondo in questo modo cercano di attrarre l'attenzione di molti investitori perciò cosa succede esiste l'air drop che significa che loro vi inviano delle cripto valute alla loro applicazione io infatti vi voglio far vedere questa applicazione si chiama ai dollar ecco questa è l'applicazione di high dollar io vi lascio il link in descrizione link di invito quindi voi andate a cliccare lì e vi porterà a questa applicazione quindi voi semplicemente avrete questa schermata dovete andare qui sotto in basso c'è registrati inserite il vostro numero di telefono e semplicemente accettate le condizioni e fate continua ecco fatto una volta entrate voi vi troverete questa questa schermata praticamente qui vedete io già ho accumulato alcuni alcune cripto valute alcune ai dollar quindi infatti io il mio saldo di 15 dollari infatti questi 15 dollari io non li ho inseriti me le hanno semplicemente regalati infatti se noi andiamo qua cripto valute clicchiamo io ho ricevuto 26 ai perché è da 26 giorni che io ricevo questi ai perché voi semplicemente riceverete un ai al giorno perciò voi ogni giorno semplicemente accedete cliccate qua sopra in alto voi vedete vedete questo regalo in mezzo alla corona e l'omino in alto qui a destra vi appariranno semplicemente una domanda mi farà ogni giorno una domanda differente quindi voi semplicemente rispondete quella che preferite io vado a caso faccio invia e lui dice fantastico hai appena guadagnato il premio giornaliero un ai dollar quindi controllo il mio saldo come vedete 27 ai infatti io prima ne avevo 26 oggi ho preso il mio premio e mi ha dato un ai quindi io attualmente ove avendo 27 ai o 16 dollari perché 16 dollari se voi noi andiamo sul coin market cap qui potete vedere tutte le cripto valute le loro quotazioni qui vedete che ai dollar è quotata 0,52 0 1 frazioni di centesimi di euro quindi 0,52 centesimi non è affatto male considerate che se il mercato di ai dollar cresce quindi un ai dollar potrà arrivare a 10 euro in base a quanti ai possedete voi riceverete quanto è la quotazione quindi se voi avete 100 ai arrivate ad avere 100 ai e arriva a costare 10 euro matematica 1000 euro quindi in questo modo attualmente loro ve li regalano perché cercano di farsi conoscere semplicemente infatti come voi vedete io ogni giorno ho ricevuto questa ricompensa ricompensa giornaliere vedete che va a gradini ogni giorno ho cliccato semplicemente il regalo e mi ha dato la cripto valuta con un'unica regola che voi questi questi ai dollar attualmente sono bloccati ma non sono bloccati per sempre sono bloccati per un anno intero quindi se voi fate un calcolo un anno di 365 giorni voi ogni giorno riceverete un ai 365 ai quindi quando iniziate a fine dell'anno di 365 giorni voi riceverete alla fine 365 ai e voi potrete riscattarli quindi potrete prendere i soldi vendendo ovviamente questi questi ai quindi se voi pensate se il mercato rimane così come a 0,52 centesimi voi nel vostro anno in cui sono stati bloccati arriverete a 365 ai quindi significa che 365 ai per 0,52 centesimi arrivate a più o meno 189 euro 190 euro via quindi sono 190 euro che voi vi potrete prendere ovviamente il mercato potrebbe crescere quindi se dovesse raddoppiare a un euro ovviamente avrete 365 euro non male allora perché non iniziare ad accumulare questi ai ogni giorno ovviamente se voi non andate a cliccare il giorno in cui avete il regalo voi lo perderete quindi ogni giorno semplicemente cliccate e voi riceverete questo ai quindi questo è un ottimo airdrop che possiamo ricevere ce ne sono tantissimi altri dobbiamo solo fare attenzione a quali siti entriamo in quali applicazioni o quale piattaforme quindi questo è un'applicazione è una piattaforma reale molto molto sicura infatti se voi tornate indietro e andate su altre valute supportate potete vedere che ci sono altre valute come bitcoin l'eetherium voi potrete ovviamente comprare da qui le altre cripto valute questa è una piattaforma a tutti gli effetti perciò voi potrete anche addirittura comprare i ai e poterli inserire in questo in questa piattaforma e ovviamente non sono un consulente finanziario perciò quello che vi dico è semplicemente per regalarvi questi questi ai queste cripto valute poter essere possessori di una cripto valuta ovviamente ci sono tante altre piattaforme come coin base binance critto puntocom io vi lascio tutti i link in descrizione di invito se volete approfondire questa questa cosa infatti se voi pensate che ma la tecnologia sta andando talmente tanto avanti che probabilmente come alcuni sostengono che nel futuro prossimo non ci saranno più le banconote quindi i soldi cartacei verranno utilizzate delle delle monete delle valute delle valute elettroniche quindi perché non usare le cripto valute infatti questa è una tematica molto discussa di utilizzare le cripto valute per poter pagare stipendi per poter pagare qualsiasi cosa infatti queste cripto valute sono già utilizzate nel mercato noi con le cripto valute possiamo andare acquistare un panino al mcdonald possiamo andare acquistare un panino al bulger king possiamo acquistare un auto tesla con una cripto valuta di cui se ne sta parlando molto ovviamente negli ultimi periodi quindi l'importante è rimanere sempre aggiornati quindi se volete potete andare nei link che vi ho lasciato in basso per poter scaricare questa applicazione quindi vi lascio il codice d'invito e le altre piattaforme che vi lascio sempre il link in invito se volete approfondire questa questa tematica quindi seguitemi anche su instagram e io li di solito posto alcune foto che sono attinenti ai video che che produco e continuate a seguirmi iscrivetevi al canale lasciate un mi piace accendete la campanella molto importante per ricevere una notifica che uscito mio video perché la tecnologia in voi non sapete mai quando vi può servire e magari un video che ho fatto vi potrà servire quindi ci vediamo alla prossima vi saluto e ciao a rimanete sintonizzati